Wui wui a tutti ragazzi, benvenuti nel terzo episodio qui sul mio canale dove vedete che ero in miniera, guardate quanta bella roba due stack di redstone coal non tantissimo ho trovato un po' di quarzo iron, uno stack e 13 di iron gold un po' e tin non tanta, non tanta tin tungustine, insomma un po' di roba copper per esempio non lo vedo, non mi sembra ho trovato della nicolaite vabbè le gemme si trovano molto facilmente allora mi sono messo il waypoint là 73 è una buona caverna allora quindi vabbè mettiamo qua facemolo n waypoint caverna caverna 2 ok don m waypoint casa teleport 2 ok ci siamo questo continua a fare rubber che a noi ci serve comunque mettiamo le gemme qua un'altra gemma di zaffiro ah ho messo la la fightful per chi non se ne fosse accorto mettiamo lo stack di di codesta cosa si abbiamo un po' di roba ma ce l'abbiamo il carbone uno stack pensavo di me abbiamo ancora un altro stack qui qua ci mettiamo altra roba ok ok allora come vedete dalla risale ci serve il vodan kong per la cosa che dobbiamo fare oggi quindi anzi innanzitutto ci mettiamo il qua dentro a cuocere della stone no che pizza ma si blocca ok allora ci serve del coal facciamo un po' di stone così 8 visto che stiamo 5 6 7 8 ok allora tanto che cuocerà stone facciamo questo ci serve i bastoncini giusto eh si ce ne servono due allora che messi così questo è piccolissimo questo video perchè devo scaper quindi giusto per caricare un video allora quindi ehm prendiamo la stone perchè dobbiamo abbiamo fatto questo ora dobbiamo fare il quartz guardare quartz guardare quattro guardare green green eh questo qui allora ci serve 3d stone una voodghia eh del quartz dust quartz dust ce l'abbiamo 1 2 3 allora poi questo qui eh ci serve basta allora così ok allora subito subito quattro blind stone allora questo qua 3 stone abbiamo tutto una qui facciamo così anzi no ah si ok stone qui cobblestone qui e 3 pezzi di quartz dust qui facciamo la quartz wind stone allora questa era quella che dicevo ieri per voi allora ce la mettiamo qui e ci mettiamo sopra questa leva guardate sta qua che si gira ok ora mettiamo il caso che abbiamo qualcosa da macerare che poi è vero prendiamo un po' di gold la si dunque io questo lo automatizzerò con le con le con la tartole quindi in questo modo avremo intanto ne possiamo fare più di una alla volta se non erro comunque giriamo questa manovella e guardate che se ne è preso uno continuiamo a girare ci devo mettere un peso sul mouse in modo tale che lo fada solo mentre io non ci sono e guardate gold dust quindi lui in automatico cioè attraverso questo giro per ora possiamo moltiplicare le cose ok cioè quindi comunque è già una gran cosa poi passaggio numero 2 mi sono fatto la minimum stone mi ero fatto la minimum stone eccola la buona shadow of minimum quindi si non ci hanno fatto allora io volevo automatizzare un po' il tutto con le tartole mi studio il programma dovrebbe essere con tartole.attacco quindi ci facciamo per ora ci facciamo la tartole vediamo se poi lo riesco ad automatizzare quindi due gemme di grinsa ah non facciamocela di rubino visto che ne abbiamo di più sì dai perché no e così abbiamo rubisbordo ci mettiamo a cuocere altre stone 3 4 5 6 7 altri due con un po' di legno con un po' di legno allora qui che altro ci serve per il computer dei glass panel che dovevamo ancora avere visto che l'altra volta l'abbiamo usati dove sono i glass panel glass panel aspettate glass no perché non no dove l'ho messo vabbè c'è lì riflessiamo tanto ora possiamo allora un po' di dirt 3 4 5 2 6 guardate la minimum stone a che cosa ci serve questo è uno dei primi utilizzati vabbè dunque dirt minimum stone cobblestone che poi potevamo anche non fare così visto che avevamo già la cobblestone comunque vabbè glass block sand ok sand molto semplicemente quindi cuociamo la sand con lo hack e abbiamo già qui la ricetta del computer dunque una redstone che per noi non è un assolutamente un problema abbiamo moltissima redstone se devo dire ottimo veramente molto ottimo allora r così ce lo mettiamo dunque glass pin a me il glass alla cinza a mettere questo qui vi devo lasciare tra un po' i sette pezzi di stone dammi qui sì così cioè alla fine è una cosa mentre noi non stiamo a casa e qui ce ne fa tre alla volta poi se non erro quindi comunque ci conviene cioè ora per ora che non abbiamo il pulverizer un maserito devo dire che tutto sommato è buono chiaramente non è questa voglio dire gran velocità un po' scomodo però meglio di non raddoppiarli ecco questo è il senso allora facciamo un glass pin così ok un glass pin ma eccolo dove ci devo vabbè guardate ma fammi vedere computer ora per fare la turtle turtle la turtle ok ci serve il computer uno scrignozzo scrignozzo uguale legna uno scrignozzo e dell'iron abbiamo dell'iron già cotto dove non è vero il fan ah ma ragazzi guardate anche quest'altro trick tra virgolette vieni qua vieni qua ok trick tra virgolette ci mettiamo quello gold quindi ragazzi è buono voglio dire ce li polveri ce li raddoppia per ora che non abbiamo una cosa alla fine va bene allora per fare velocemente velocellando che me ne devo andare facciamo così così e abbiamo 8 di iron semplice molto comodo era minuto poi legno ci facciamo una chest tutti giusti ci mettiamo una chest e voilà tartle ora la tartle nel nostro inventario con una rubisword tanto ci servirà lo stesso per le future farm quindi allora ok facciamo tartle punto attacca parentesi zero e noi facciamo uno vai non so ci programma ah si giusto scusate edit startup ci creiamo uno startup allora facciamo while true do ci creiamo un ciclo poi facciamo tartle punto attacca lo facciamo per 1 punto 5 basta tartle 1.5 a capo facciamo end end ok ctrl save poi me lo studio meglio ovviamente il programma è giusto per vedere dunque reboot reboot goodbye dovrebbe iniziarsi il programma infatti vedete 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 che ci ha minato avviamo start up oh ho detto che dobbiamo avviare ok ctrl t per terminare il programma ctrl t ok la tart è uscita fuori di sé veniamo la tart rimpiazziamo ha perso il programma genio che sono qui io beh aspetta ce la mettiamo qua così fa più figo ci possiamo vedere meglio allora dunque facciamo edit edit startup ok poi while true do turtle . attack e mettiamo facciamo 5 no facciamo di più facciamo 40 chiudiamo la parentesi and ok ctrl save ctrl exit erno facciamo start up by start up start up vai ctrl c ctrl t ctrl c come che era che si terminate in programmi non è cimeno eh devi menare questo coso no ok non è compatibile cioè non è compatibile con questa modulo perché vedi se andiamo noi vicino gemeno mi ha ucciso sta no vabbè allora a casa sta maledetta vedi è mila forte qui vabbè allora possiamo spegnere perché non vedete non è compatibile big big fail quindi però devo trovare un metodo un metodo un metodo un metodo vediamo quanto l'ho registrato se può bastare 14 minuti ok ci metto devo metterci il peso del telefono aspettate fatemi provare sì ragazzi funziona ok io non sto muovendo niente quindi grazie per la visione io vi saluto però aspettate fatemi vedere la mia teoria che funzionano più ore insieme perché se è così è più ottimo più ottimo lo sai lo so che forse non si dice però io lo dico lo stesso vi da problemi no grazie prega oppure forse ce ne fa una alla volta cioè quando finisce quello va l'altro anche infatti vedete vedete sì 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 ok allora ci rimetto il peso oh aspetta che non riesco a più di mettere il peso dai fai il bravo peso ok sì però non credo che con la spada sia la cosa migliore ecco grazie per la visione io vi saluto ciao a tutti alla prossima quindi questa cosa è un metodo buonissimo ah però io ora come esco la minecraft giusto ok ciao 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 ciao